A volte in queste occasioni si rischia di essere scontati se non addirittura banali, però qualcosa evidentemente bisogna dirla e ho cercato di dire quello che veramente ho in testa e che è quello che ci ripete tante volte il Capo della Polizia, il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e il Prefetto Gabrielli. È un momento storico questo per il nostro Paese durante il quale è importante soprattutto trasmettere tranquillità. Quindi bisogna assolutamente, quotidianamente dare garanzie di sicurezza al cittadino, quindi effettivamente fare in modo che si riduca il divario tra la sicurezza reale e la sicurezza percepita. Tra le figure istituzionali chi ha già incontrato chi è? Io ho incontrato il Prefetto, ho incontrato già il Sindaco e il Presidente della Giunta Regionale e poi le prossime, diciamo, già da oggi pomeriggio incontrerò altre figure istituzionali. È una questione soltanto di organizzazione dell'agenda e evidentemente anche in sintonia con quelli che sono gli impegni degli altri.